all'ora mentre stava camminando vicino al negozio cercasi commesso esperto cercasi commesso esperto allora chi si tratta di inglese ma voi siete esperti e chi si guarda io non sono esperto però ho grande voglia di lavorare perché ho bisogno di guadagnare però sul nostro negozio è un po' come articolato noi vendiamo detersivi profumi e poi abbiamo una grata destina noi quando vendiamo un prodotto cerchiamo i clienti ti vogliava comprare neanche un altro ma questo aumentava la produzione o non lo può vedere come faccio io e così voglio dire allora chi si tratta la signora e dice per quanti sei mai la confezione è pronto e chi si tratta quindi la confezione è pronta e poi non fa po' di vetri e poi ci riesce a scegliere ma signor si sapeva che era quando arriva a capora dopo i mobili voi trovate qualizzate con i vetri non ho e dice ma è ragione ma non c'è quello che è stato anzi che mi piace e si compra i prodotti poi tra l'altro si dice mi dice ma è una confezione di vetri ma è una confezione di vetri e poi ti puro non lo scala e poi ci riesce a scegliere e poi ci riesce a scegliere non lo scala ha capito come ha fatto? e si può, dove tu parli? la gran bella sera, bella sera dice scusate come potete rimanare la convenzione assorbente ah grazie ecco la convenzione assorbente ecco la convenzione è pronti ecco il pappone è vero e c'è un asciugato io ai cinesi soltanto la convenzione assorbente c'è un asciugato lavato voi ma non mi piace ma non mi piace è un asciugato ma non mi piace ecco la visione ecco la visione